vi presento il nuovo Billy Goat F601 S questa macchina è dotata di un motore Robin SP170 è un motore 170 di cilindrata che sviluppa 6 cavalli di potenza coppia bassi consumi e facilità di avviamento fanno di questo motore il top di gamma questa macchina è dotata di un'ampia chiocciola in materiale antiurto con all'interno un girante molto capace riusciamo ad avere un grosso flusso d'aria che viene espulso tramite questo canotto che viene orientato da questa leva posta sul manubrio abbiamo la comodità di avere il bloccaggio della posizione del canotto tramite questo pulsante possiamo quindi scegliere l'inclinazione da dare all'uscita dell'aria questa macchina ha un telaio in acciaio sul quale è montato una sale con ruote in tubeless neumatiche molto facili da manovrare di fronte troviamo una ruota in gomma piena con anch'essa all'interno i cuscinetti a sfera ingrassati andiamo a provarla andiamo ad avviare la macchina chiudiamo l'aria apriamo la benzina guardiamo che l'interruttore di spegnimento sia su uno e tiriamo apriamo l'aria gas 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.